c'è differenza tra tranquillità e pace interiore sì secondo me sì la pace interiore è uno stato molto più profondo è l'assenza di problemi cioè io posso essere tranquillo ma uno stato momentaneo però vivo in un ambiente che comunque tra un po me ne creerà di problemi invece la pace interiore è proprio uno non mi tocca niente cioè la pace interiore è anche la capacità di stare all'interno di problemi e non vederli come problemi cioè allora io ho detto tra noi qui ne ho tanti di problemi se la dove se li dovessi vedere come problemi ma non non è che c'è in questo periodo qua negli ultimi due tre mesi soprattutto nel cambio vita sono strapieno di problemi ma questo non tocca la mia pace interiore perché non vengono visti come problemi sono dei task sono delle cose da fare sono delle robe da risolvere basta sì potranno costare potranno avere tutta una serie di casini dietro potranno impiegare tempo denaro quello che vuoi ok va bene ma non per questo devono togliermi la pace interiore cioè se io ho un problema che mi costa x per risolverlo non è che se sono senza pace mi costa di meno mi fa uno sconto cioè è uguale quindi io posso tranquillamente in pace vivermi il fatto che ci sono determinate cose le metto a perdita va bene così dovrò impegnare un po di più recuperare va bene così ci sono i problemi più grossi cerco di essere in cioè nello stato di pace hai la lucidità mentale per poter risolvere tutto quello che ti accade la lucidità mentale tutto cioè essere lucido vuol dire poter essere creativo vuol dire poter avere problem solving vuol dire poter avere idee intuizioni conoscenze invenzioni ricerca tutto per me la lucidità mentale è il top della fonte di dopamina ma perché l'ho vissuta perché so quanto è bella so quanto è piacevole per me scoprire un fare amicizia con un nuovo demone la casa degli orrori è una delle cose più belle che posso scoprire conoscere i demoni degli altri è una cosa divertente essere lucido per risolvere un problema è fondamentale mi dà piacere se non c'è problema è ancora meglio poter fare ricerca poter studiare è meglio cioè se io devo studiare una cosa adesso studiare una cosa in inglese molto complessa devo essere lucido non posso essere distratto non è che devo essere distratto dal like su instagram perché se no non c'ho la fonte di dopamina non la mia fonte di dopamina è che sto studiando quindi è fondamentale che cosa sono le vostre priorità